La situazione dei rifiuti in Sicilia è gravissima, per questo il presidente della regione Nello Musumeci ha convocato stamattina una conferenza stampa a Palazzo d'Orlean per raccontare le condizioni in cui versa il settore e come la Giunta stia pensando di intervenire in particolare dopo le dimissioni dell'assessore che era stato designato al ramo, Vincenzo Figuccia. Innanzitutto voglio fare un'operazione verità, ha detto il governatore, per far capire ai siciliani la situazione che abbiamo trovato. Credo di poter dire che la situazione è assai grave, parlare di emergenza di fronte a un problema che va avanti da 20 anni è sbagliato. Questa è un'emergenza strutturata. La Corte dei Conti dice che il sistema dei rifiuti presenta in Sicilia un preoccupante quadro organizzativo e gestionale. In questi giorni ho incontrato molti esperti, da Marco Lupo a Salvo Cocina, che ho voluto dirigente generale, e il professor Aurelio Angelini. La situazione peggiore è quella di Bello Lampo, che tra un mese chiuderà lasciando la Sicilia occidentale senza impianto di conferimento. Occorre ampliare la sesta vasca in attesa di autorizzare la settima e questa situazione non si può affrontare con i poteri ordinari. La regione è competente solo in materia di controllo e organizzazione, ma la gestione spetta ai comuni. Dire che la regione siciliana in questi anni ha esercitato i poteri di controllo farebbe sorridere. Lo stesso vale anche per i comuni. Unica certezza è che da 20 anni chiediamo stato di emergenza, da capo di casa Cuffaro, Lombardo e Crocetta. Chi doveva fare la propria parte non lo ha fatto. La legge regionale del 2010, secondo i magistrati contabili, è inapplicabile. La regione non ha un piano rifiuti ordinario e per la mancanza di questi piani l'Unione Europea non ci ha dato fondi in materia. Si parla di 350 milioni. Andrò a fine mese a Bruxelles per recuperare queste somme, ma la situazione è difficile adesso, soprattutto tra le discariche. A settembre impianti saturi ovunque. Musumeci ha anche definito troppo bassa la differenziata. Ci sono comuni che sono al 60%, ma la situazione peggiore è a Palermo, Messina e Catania. Falso come sostenuto dal governo passato che la differenziata era al 20%, siamo appena al 15%. E poi c'è il disastro degli Ato. Hanno un buco da 1,8 miliardi di euro. Le nuove SRR sono 18, ma solo tre attive. Le altre sono solo sulla carta. Qualcuno dovrà pagare per questi mancati controlli. Avvieremo un'ispezione per capire chi ha sbagliato.